Qui vediamo quello che chiamiamo il puzzle delle placche continentali, cioè quelle tessere di porzioni della crosta terrestre che costituiscono tutta la superficie del nostro pianeta. Vedete che ogni placca è costituita in gran parte di continenti emersi, quelli che conosciamo, ma anche da parte o quasi esclusivamente di oceani e la differenza è che poi appunto il tipo di crosta, che per esempio nel caso del Pacifico è una crosta di tipo oceanica, nel caso dell'Africa è in gran parte continentale e anche in parte oceanica. Le linee arancioni marcano i limiti di queste placche e dove queste placche si muovono una rispetto all'altra, provocando appunto degli effetti che sono per esempio i terremoti. Le frecce ci indicano anche in che direzione si muovono le placche tra di loro e distinguiamo dei margini divergenti dove le placche si allontanano, per esempio il caso di tutto il il ridge, il cosiddetto ridge atlantico, dove appunto la placca africana si è allontanata nel corso dei milioni di anni dalla placca americana e nello spazio che si è creato la risalita di materiale dal mantello ha costituito il fondale oceanico del mare atlantico. Altri margini sono invece quelli convergenti, dove cioè le due placche si avvicinano e si scontrano una sull'altra, per esempio il caso molto famoso è quello di tutto il Sud America, dove la placca chiamata Dinasca sprofonda e affonda al di sotto della placca sudamericana, dando poi origine alla formazione delle montagne, delle catene andina, che a sua volta è caratterizzata da vulcanismo. L'Italia è messa in questo settore tra una placca africana a sud e una placca europea a nord e si trova proprio in mezzo dove le due placche diciamo si stanno avvicinando tra di loro e questa è la ragione della sismicità di questa porzione del Mediterraneo centrale. Abbiamo visto che la tettonica a placche è quella che determina delle grandi deformazioni sulla crosta terrestre. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio cosa succede dove queste tensioni si accumulano e lo facciamo con questi blocchi che ci aiutano a spiegare come si muovono le faglie. Qui abbiamo ipotizzato una porzione della crosta terrestre con una sua stratigrafia di diversi terreni. Se io vado a comprimere, a schiacciare questa porzione della crosta terrestre a un certo punto il materiale non riesce più a sopportare la forza che lo comprime e si ha un movimento di questo tipo. Si rompe lungo la faglia, la crosta terrestre, si ha che una porzione si muove al di sopra dell'altra e complessivamente abbiamo un raccorciamento, cioè la distanza coperta da questi due blocchi è minore di quella iniziale. Questo è per esempio il caso che si ha in tutte le zone che noi chiamiamo incompressione perché appunto il materiale viene compresso e schiacciato ed è per esempio il caso che è avvenuto col terremoto dell'Emilia del maggio del 2012. Se invece io sottopongo lo stesso blocco a una forza che tende a stirare la porzione della crosta terrestre a un certo punto a causa di questa forza vedrò che i due blocchi si allontanano e uno si abbassa rispetto all'altro con un movimento di questo tipo. Complessivamente c'è un allungamento della porzione interessata coperta da questi due blocchi ed è una zona che noi chiamiamo quindi in distensione perché appunto si allontanano i due blocchi. È quello che per esempio avviene con i grandi terremoti dell'Appennino in Italia come il terremoto dell'Aquila del 2012 e i terremoti di Amatrice e Norcia del 2016. Il terzo caso di movimento lungo le faglie è quello in cui si ha uno scorrimento solamente orizzontale quindi non si ha né compressione né distensione ma lungo una superficie di faglia pressoché verticale i due blocchi scorrono appunto orizzontalmente uno rispetto all'altro per esempio in questo modo. Questo appunto è il caso che noi chiamiamo trascorrente per l'appunto e diciamo il caso più famoso di una faglia di questo tipo è la faglia di San Andreas che in California dal nord a sud attraversa tutto lo stato americano e produce i forti terremoti di quella zona.